Maria Anna Iosefa Antonia Ioanna Nacqua a Vienna il 6 ottobre 1738 Detta in famiglia Marianna, era la seconda figlia dell'imperatrice e regina Maria Teresa d'Austria e dell'imperatore Francesco Stefano di Lorena Sulla base della legge salica, dalla morte della sorellina maggiore Maria Elisabetta, deceduta nel 1740 e sino alla nascita del fratello e primo figlio maschio della coppia imperiale Ella fu erede al trono del sacro romano impero Della sua educazione si occupò direttamente sua madre che le impartì la formazione essenziale dell'epoca e che la spronò a coltivare la sua naturale propensione per la musica e per il canto Bisogna però ricordare che Marianna era la figlia meno amata dall'imperatrice Era molto intelligente ma purtroppo la salute cagionevole della giovane arciduchessa la riduceva spesso a letto con frequenti malattie come la polmonite che contraste nel 1751 e che la portò a ricevere l'estrema unzione Anche se sopravvisse, la sua capacità respiratoria rimase danneggiata in modo permanente Fu durante questa malattia ed il relativo periodo di convalescenza che recuperò molto il rapporto con suo padre appassionandosi con lui e gli interessi scientifici Marianna svolse comunque ruoli importanti in eventi di stato e fu madrina della più famosa sorella, Maria Antonietta La morte del padre nel 1765 fu devastante per Marianna ed essendo racchitica e malattizza, per ella risultava molto difficoltosa ogni trattativa di contrarre un buon matrimonio Per una donna era infatti essenziale essere in grado di generare figli ragion per cui il suo aspetto non dava assolutamente una tale garanzia in particolare dopo che i problemi alla colonna vertebrale ne avevano sviluppato un principio di gobba Maria Teresa, anche conscia del fatto di poter avere a disposizione per i suoi fini politici molti altri suoi figli, non si disperò Ella infatti riteneva comunque molto importante e funzionale alle esigenze della dinastia la destinazione ecclesiastica di alcuni dei propri eredi E così non solo Marianna, ma anche Maria Elisabetta e Massimiliano Francesco furono destinati alla condizione ecclesiastica Nel luglio 1765 tutta la famiglia imperiale si recò a Innsbruck per il matrimonio del secondo genito, Leopoldo Si fermarono a Klagenfurt, dove Marianna visitò il piccolo monastero che apparteneva all'ordine di Santa Elisabetta, ivi fondato nel 1710 L'incontro con le suore fu una svolta nella vita di Marianna L'arciduchessa si entusiasmò per la vita monastica poiché le monache non si curavano delle apparenze e Marianna viveva sempre con la paura di essere derisa a causa della sua gobba Marianna e la sorella Maria Elisabetta entrarono in istituzioni chiamate Capitolo Nobile una a Praga e l'altra ad Innsbruck e ne furono elette badesse La carica di badessa dei Capitoli Nobili veniva ricoperta da membri di famiglie reali o nobili Questa istituzione non era propriamente un convento ma piuttosto una comunità di donne appartenente all'aristocrazia che, pur non pronunciando voti di povertà e castità perseguivano una vita religiosa e dall'insegna dell'assistenza al prossimo e potevano abbandonare il capitolo quando necessario Avevano una certa influenza politica sul territorio e ivi continuavano a fare gli interessi della propria famiglia potevano recarsi spesso a corte e conducevano una vita agiata e all'altezza del proprio rango Marianna dunque divenne badessa del capitolo nobile di Praga con una rendita di 20.000 fiorini annui Durante questo stesso periodo e sino alla sua morte l'arciduchessa si dedicò a risistemare la vasta raccolta naturalistica di suo padre in seguito divenuta il primo nucleo del Museo di Storia Naturale di Vienna ancora oggi esistente ed istituì una propria collezione di minerali e di insetti di ogni genere sotto la sapiente guida del suo mentore il mineralogista Ignaz von Bon risistemò e ampliò inoltre la collezione numismatica di suo padre e scrisse anche un testo sulle monete commemorative emesse dalla madre Maria Teresa dotata anche di un notevole talento artistico i suoi acquerelli e disegni vennero loggiati per la grande professionalità dimostrata e per questo venne nominata membro onorario dell'Accademia di Belle Arti di Vienna e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze il 29 novembre 1780 morì sua madre Maria Teresa e Marianna decise di trasferirsi in un convento di suore francescane presso Klagenfurt in questo periodo ebbe a scrivere sulla badessa del convento Dio mi ha dato la grazia di conoscere il mondo e la sua vanità e quindi mi dà la forza di chiudere la mia esistenza non come una suora di clausura ma nella solitudine e nel servizio al prossimo ho prescelto Klagenfurt come mia nuova residenza vale a dire voi e le vostre pie e sorelle sperando che il mio valore di imperfetta stimoli dei vostri buoni esempi mentre a me gioverà sicuramente per la salvezza con la badessa Xaveria Gasser nacque ben presto una profonda amicizia al punto che la stessa arciduchessa destinò parte delle proprie rendite per finanziare l'ospedale del convento ed il suo ampliamento il suo archiatra personale venne incaricato di supervisionare personalmente tutti i pazienti ricoverati all'ospedale si preoccupò di fornire un valido aiuto anche alla comunità di Klagenfurt pur risiedendo in convento condusse una vita a stretto contatto con le molteplici realtà della sua epoca e, oltre a suori religiosi, si circondò di artisti, scienziati ed aristocratici alcuni di questi erano inoltre membri di logge massoniche e nel 1783 la stessa arciduchessa ne fondò una propria Klagenfurt riscoprì negli anni anche un certo amore per l'archeologia finanziando con 30.000 fiorini gli scavi per riportare alla luce l'antica città romana di Viruno in Carinzia nonostante il suo talento e la sua intelligenza Marianna non era apprezzata dall'alta società perché i suoi interessi scientifici erano considerati inadatti al suo genere va ricordato che Marianna scrisse anche un libro sulla politica di sua madre negli ultimi anni di vita visse vicino alla sorella minore Maria Elisabetta nello stesso convento nell'inverno del 1788 la salute di Marianna da sempre minata iniziò a peggiorare ulteriormente frequenti erano le mancanze di respiro ridusse i movimenti al minimo al punto che fu obbligata su una serie a rotelle per spostarsi morì il 19 ottobre 1789 nel palazzo del convento di Klagenfurt circondata dagli amici più cari aveva 51 anni secondo quanto riferito le sue ultime parole furono è davvero un buon paese l'ho sempre amato ci sono brave persone con cui ho vissuto felicemente e le lascio a malincuore al monastero lasciò un'eredità di 150.000 fiorini ed il palazzo che la madre le aveva donato e che era stato concluso nel 1771 sul progetto di Niccolò Pacassi che attualmente è utilizzato come sede dell'arcivescovado locale grazie